discono. Ecco, lo sognavo passo passo, verso sera passiamo all'altra riva. La formula verso sera è tipica di. Perché il lago ha varie rive, no? Di qua e dall'altra parte all'altra riva, sia perché questa altra riva sei tanto quello della vita, con la altra riva che del 30% qui.